Il centro-destra oggi è venuto finalmente sulla linea che da giorni e settimane noi stavamo dicendo, sembravamo ai loro occhi dei marziani nel chiedere un accordo su un nome super partes, istituzionale, non di parte. Per settimane ci hanno detto che questa non era la strada giusta e che loro volevano il candidato della loro parte politica. Oggi finalmente hanno capito che l'unica possibilità è quella che noi dall'inizio avevamo detto. Quindi per noi è un risultato molto importante. Da domani discuteremo delle modalità migliori per far sì che il nostro Paese abbia una o un Presidente della Repubblica all'altezza del successore, dal successore di Mattarella. Segretario, però dal centro-destra rimangono i no a Draghi, i no a Mattarella. Stop, stop, vi fate male. Io non dico altro. Stop, vi fate male. Il nome di Draghi è ancora in campo. Però, rompete male. Basta, stop.